Doro Nero dopo la vittoria 3-0 della Pro Doro Nero sul stesso elevante, siamo con Giuseppe Toscano. Allora, una vittoria per voi importante, importantissima, con un risultato largo che poteva essere anche più largo. Insomma, direi tutto bene da questa domenica di calcio, di serie D. Sì, dopo la vittoria di domenica scorsa, questa domenica è stata importante aver fatto altri tre punti e quindi confermarci sul nostro buono stato di salute. Quindi abbiamo ottenuto il massimo meritatamente e quindi siamo veramente contenti. Prestazione importante, sia a livello di gioco, avete creato tanto, ma anche dietro. Diceva il mister dopo la partita, non avete subito gol ed è una novità per quest'anno. E anche a livello di rischi, insomma, avete rischiato meno di quanto si è visto in questo inizio di campionato. Tu sei un difensore, quindi penso che i segnali positivi arrivano anche dalla retroguardia. Sì, io sono doppiamente contento, giustamente, perché non prendere gol per un difensore è sempre importante. Certo, è più importante vincere, fare bene di squadra, ma avere una compattezza di reparto, non prendere gol è doppiamente soddisfacente. Quindi si sta lavorando bene, in settimana cerchiamo di trovarci come reparto difensivo più compatto, più coese, quindi oggi sono veramente contento che non abbiamo preso gol e speriamo di continuare su questo stato di crescita a livello difensivo, ma soprattutto di squadra.